sono molto contento di aver firmato per la Sampdoria sono contentissimo di tornare in Italia tornare a Serie A è stato un sogno gli ultimi anni di tornare qua voglio ringraziare il presidente il signor Sabatini e le altre persone nella società che che aver realizzato questo sogno non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con la Sampdoria e conoscere i miei nuovi compagni ho fatto già sette anni in Italia poi sono andato in Germania tre anni ma alla fine volevo tornare in Italia perché qui mi sento come casa mi piace giocare in Serie A mi piace il modo di giocare mi piace affrontare le altre squadre quindi sono molto contento di essere qua oggi spero che posso subito far bene per la squadra aiutare la squadra il fatto che conosco bene il campionato ho già fatto tante partite penso che mi aiuterà come giocatore anche anche per aiutare la squadra ho avuto il mister quasi dieci anni fa tante cose sono cambiate ma lo conosco un po sono sicuro che nei prossimi giorni lo conoscerò ancora meglio forse è un avvantaggio per me che che lo conosco già ma lo so che è un allenatore molto forte tatticamente spero che posso crescere ancora lavorando con lui ho fatto sempre la centrocampista centrale mezzala regista a due nazionale quindi posso fare tutti quei roli e vediamo dove il mister mi metterà e sono pronto per fare per fare tutti i roli sul centrocampo e sono a disposizione per per tutti i roli quindi parleremo con con il mister poi poi vediamo dove dove aiuterò la squadra più possibile conosco murro dal tempo a cagliari molto bravo ragazzo un difensore forte quindi mi fa piacere vederlo di nuovo poi ho giocato anche con gaston ramirez a bologna un anno anche lui bravissimo ragazzo come giocatore è fantastico e poi gli altri compagni mi basta una settimana poi sono amico con quasi tutte spero l'esperienza nel mondiale è stata fantastica tanti bei ricordi con la maglia svedese ma ora è adesso ora di far bene con la sampdoria e spero che quella esperienza mi aiuterà di giocare bene qua ho fatto tante partite contro la sampdoria nella mia carriera per esempio vinto il via reggio con la primavera della juventus contro sampdoria in finale poi ho fatto anche un gol col cagliari contro sampdoria a trieste se non mi sbaglio adesso è ora di aiutare la squadra di magari fa gol controllate squadre quindi non vedo l'ora di iniziare sono molto motivato voglio iniziare subito grazie a tutti